Parto da te, in Liguria il campo largo di fatto non c'è più, nel senso che dobbiamo tenere presente però che il durissimo attacco di Conte a Renzi è figlio anche della polemica interna al Movimento 5 Stelle, ma questo significa, saltato il campo largo, che probabilmente Bucci vincerà facilmente fra 27 giorni quando quando si voterà. E poi? Ma allora secondo me la questione Ligure era complessa anche sul campo largo, tieni presente che i renziani che appoggiavano Bucci avrebbero dovuto candidarsi contro Bucci alle regionali, quindi quello sarebbe stato un po' strano. In più il Movimento 5 Stelle là ha ancora quella radice di Grillo, sono terre sue, secondo me era un'avventura comunque tutta in salita e lo sarà, perché Bucci comunque è un candidato forte su Genova ed intorni che però sono una gran parte della popolazione. è un buon candidato, ma se uno ha il 60% nella zona più popolosa che c'è è difficile fare la partita con province assai meno popolate. Il campo largo lo vedrai davvero, la sua forza, secondo me in Umbria. L'Umbria è il primo test vero perché ci fu già il test del campo largo e fu disastroso proprio quando vinse la Tesei, eravamo però nell'epoca del boom della Lega di Salvini, quindi diciamo fu trainata da quello. Ora nel centro-destra si sono un po' riequilibrate, ma Fratelli d'Italia non sta alle percentuali in cui stava Salvini a quell'epoca. La partita è più aperta e lì l'esperimento vedi se funziona o no. Se dovesse perdere in Umbria, certo dove hanno un candidato buono perché la sindaca di Assisi, che raccoglie anche gran parte del mondo cattolico, che pesa su una regione poco popolata, ma molto popolata di frati e quindi lì è un test abbastanza, è il primo test vero del campo largo. Se regge lì possono pensare di costruire qualcosa, ma il campo largo varrà poi alle prossime elezioni politiche, che non so quando verranno, prossimamente alla fine della legislatura. Giampiero Gramaglia dice, dice Franco Becchis, varrà per le prossime elezioni.